ciao cosa creiamo oggi ho preso un contenitore che è una ciotola normalissima semplicissima e l'ho ricoperta rivestita ai lati di tutte queste foglioline come notate e poi ho girato un semplicissimo nastro fatto un fiocchettino e ho inserito una spugna perché qui adesso vado a creare la mia composizione diciamo che è una semplicissima composizione da centro tavola ma molto più sollevato delle solite e dove la i miei fiori diciamo prendono questa dimensione ok partiamo o delle rose del garofano dei poeti solidavo del populous colorato qualche calla e un paio di viola ciò che andiamo i miei fiori Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.